Ci troviamo presso il massiccio del Sirino in provincia di Potenza per il PON su un uomo libero, allora sei pronto a metterti in cammino? Questo progetto è rivolto ai ragazzi del liceo e praticamente porta a scuola per la prima volta una nuova attività, una nuova disciplina sportiva che è il nordic walking. È un'attività che si può fare in città, nei parchi, al mare, sui sentieri e naturalmente anche sulla neve. Oggi siamo qui a fare questa esperienza, almeno per me la prima volta, di ciaspolata. Io ho sciato ma non ho mai fatto una ciaspolata. Allora qui siamo a 1600 metri, 1700 metri, siamo nel cuore del massiccio del Sirino, siamo lungo la pista della seggiovia e come vedete qua i pendii sono ancora innevati e soprattutto quelle forme strane è stata l'azione del vendo. L'azione del vendo è molto significativa per uno sciatore, un escursionista e quindi ne deve conoscere anche le azioni perché il vendo può generare anche la formazione di creste e quindi il generare poi dopo di un pendio con rischio valanghe. Chiaramente è faticoso come cammino perché non siamo abituati, però insomma come ogni cammino faticoso porta poi ad una vetta da cui guardare dall'alto con soddisfazione. È stata bellissima, è la prima volta che io affronto una ciaspolata ed è stata veramente dura a un certo punto soprattutto in salita però molto bella, i paesaggi sono stati veramente fantastici. Penso che un'occasione del genere si possa ripetere raramente e soprattutto la bellezza e il fatto che questo paesaggio sia così vicino a casa nostra. Secondo me è un progetto che permette ai ragazzi di fare cose diverse, di stare insieme, di socializzare e anche di rilassarsi e fare qualcosa di diverso rispetto alle solite attività scolastiche. È stato molto bello, verso la fine è stato molto faticoso però il percorso è molto bello, molto soddisfacente. Quali sono i benefici dello stare a contatto con la natura? Beh innanzitutto è vitale stare a contatto con la natura, soprattutto capire una cosa che la natura va rispettata e la dobbiamo lasciare in eredità alle generazioni future. Questo ci permette, queste azioni, queste attività ci permette di far capire questo concetto soprattutto ai ragazzi con le scuole perché poi dopo la loro saranno nel futuro custodi del nostro ambiente. Grazie a tutti.